Via privata Ugolini 20, pochi passi dalla fermata Cagranda dell'M5, siamo in un splendido bilocale con piscina condominiale e solario. Scopriamola! Mai abitata, nuova, appena costruita, sia nelle parti comuni che internamente. Ampia zona giorno, già redata, con divano e design, mobile tv, tv, scappiera, tavolo da pranzo e cucina completa di tutti gli elettrodomestici. Abbiamo la lavastoviglie, abbiamo il lavandino sottotopo, abbiamo il forno, il microda d'incasso, frigo freezer e una buona capienza anche per tutto quello che occorre. Abbiamo un armadio nel ripostiglio, molto comodo, ripostiglio e lavanderia, già attrezzato con lavatrice e asciugatrice, credo non abbiano mai fatto neanche un lavaggio. Abbiamo un bellissimo bagno con le cementine a terra, una doccia comoda, sanitario e un mobile lavabo. Ovviamente il bagno è finestrato, abbiamo una bellissima luciacca. La camera da letto è super comoda, letto matrimoniale, doppio comodino con la plic di design, settimanale e una grande cabina armadio attrezzata. Adesso usciamo e guardiamo anche il patio, perché la casa è in pieno terra e dispone di un comodo, funzionale, spazio esterno. Adesso non è arredato, ma c'è lo spazio per mettere due poltrone in tavolo e godersi questo spazio. La via Colmini è una via silenziosissima, con pochissimo traffico veicolare e infatti una via privata. I bi-locali in affitto, esclusiva a Sagor & Partner, per informazioni che vi è consulta.